Ciao a tutti ragazzi, qui è FortuGamer che parla, benvenuti in un video su Fortnite Oggi ragazzi faremo una partita in singolo da ben 14 kg, mi raccomando guardatela fino alla fine Perché finalmente vi esco anche la sensibilità da ragazzi, perché me l'avete chiesto in molti Quindi ragazzi lasciate un like, iscrivetevi al canale e poi se volete il link è di iscrizione per Instagram Se volete seguirmi sul mio proprio Instagram, intanto ragazzi vi lascio a sta partita Ok ragazzi ci siamo, pinnacoli pendenti, modalità singolo, oggi ho messo la skin quella del pacchetto Dello starter pack, una cosa del genere, pacchetto principianti, ora non so, non mi ricordo come si chiamava ragazzi Lì già stanno due su un'arma, quindi capiamo benissimo che non è roba nostra attualmente quella Oh, 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 buonasera, eh zio, mi spiace, niente bravo Oh ma io lo sapevo, aiuto, aiuto, io lo sapevo, io lo sapevo, io lo sapevo Sì sì, ciao ne proprio, vabbè sì sì, bravo, forte, forte Se volete stare, mi è messo pure a ballare, no, io mi ero messo a fare la persona seria, a pia un'arma Quello che pia l'arma giustamente è lui Intanto un'arma la vorrei Ciao Alla prossima Scusatemi È vero che l'ho preso mezza volta Perché sono scarso Ma quante volte l'ho dovuto colpire Sì, sì, sta sopra, sta qua Cioè, sta sopra proprio Ok, ha fatto male Ero convinto ci avesse un fucile a pompa Invece c'aveva il Thompson Diciamo che si è fatto sentire il Thompson Ehi, scar Ma buon suar Ma buon suar Scar è anche forte Va bene, divertiamoci Però caro, io c'ho un ma... Ah, che goduria Che goduria, non potete capire Che goduria Per una volta non sono io quello messo a panino Sai che ti faccio? Sì, no, non mi interessa proprio Te da là non te ne vai Te da là non te ne vai Che ti ammazza pure il nemico Ma non mi interessa proprio L'importante è che te da là non te ne vai Sì, sì, ma che ti faccia questo Felicissimo Felicissimo di sta cosa Mi fotte proprio Ogni tanto Ho una mano da parte dei nemici Una volta tanto che capita Cioè Allora, però devo fare in fretta Perché io comunque C'ho dei nemici in testa Tra l'altro Quindi Meglio che ce ne andiamo Pure due cozze Quindi buono per noi Me le sparo un attimo Mi sistemiamo l'inventario Beh beh Evidentemente quel tizio non avrà le cuffie Perché altrimenti Non mi spiego come non vi abbia sentito Pozze piccole Perché si devono prendere Uh, gg, gg, gg Ok Voglio giocare a chi lo sa usare meglio Lo scarro No perché Eh Vai cazzo, dai C'era un nemico che ha sparato Con fucile di precisione Era una Desert Eagle Non l'ho capito Vediamo Spara Non l'ho capito Ragazzi Il mio obiettivo sarebbe almeno 15 kill Solo che 15 ragazzi Non credo le raggiungeremo Perché siamo in 15 E ho 7 kill Quindi dovrei farmi più o meno metà lobby Non è proprio una cosa facile da fare Nell'attuale stato delle cose Quindi non credo Però Ma Adesso almeno 12 13 Una cosa di questo tipo Ma la vorrei portare a casa E intanto così Bellissimo proprio Clear shot guys Quindi Ok Abbiamoci tutta roba Grazie 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 Cosa mi può interessare Forse esatto Ah che bello Essere full legno Mi fa sentire molto più tranquillo Perché è un fucile a pompa Del nonno Tra l'altro 11 Una corsa contro al tempo Raga questa Ok 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 Calmi 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 Non mi ha sentito Ah Dai Porca di quella miseria Sono confuso Sono molto confuso Le piattaforme Le piattaforme me le voglio utilizzare Io durante un gun Fai tu proprio Quando devo uscire addosso Un nemico Magari un po' più lontano Non ora per muovermi Più velocemente Nonostante comunque Mi servirebbero C'è nessuno pure all'ante Siamo in 8 Ah siamo in 7 Dai raga No No vabbè raga Non ce la faccio Per raggiungere le 15 kg Mi devo fare tutti quelli in lobby Tutti partendo da ora Così raga Non ci stanno Non ci stanno Dove siete Cioè Bah Torniamo a borgo raga Che vi devo dire Non c'è Non c'è un'anima viva Forse è là sopra Ma nel frattempo Che arrivo là sopra La lobby finisce Non rimane più nessuno Sono sulla montagna Ma se vado là raga Perdo troppo tempo Un trampolino Ah buono L'hanno visto eh Bra Un altro impallinato Porca miseria ragazzi Porca miseria Ah no Mamma mia No raga Qua mi sono impallato io Qui con i comandi Mi sono impallato io Con i comandi No raga Mi sto impallando Calmi tutti Per fare in fretta Mi sto un po' là Qua Mi è stronzato così Da principiante Però no Neanche da principiante Proprio da cazzone Ora devo perdere tempo Per curare Stava un tizio là Che ho pure sparato Per farmi notare Però poi è uscito Quel tizio Quel John Wick Di fianco Quindi Dai 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 Andiamo Ok Ah Io non c'ho nessuna Arba carica Non C'ho solo Scarga carico Uh ma questa è carta Porca miseria Esatto questo si sta a fare Il portino Quella Che sta a fare Ok Ah no 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 Sta cosa non sta da fare Ok Let's enjoy baby Posso sopportare Cioè posso subire Solo un colpo di lancia razzi Uno contato Perché l'aveva 110 Il secondo mi ammazza Il problema è che Non credo mi darà Il tempo di subirne Un secondo Che giustamente poi Dopo il primo razzo Mi spara con altro No I materiali Non sono più un problema Tanto è l'ultimo gunfight Ma dove è andato La vera domanda C'è una sola piattaforma Grazie con il lancia razzi Era un bel problema Spara con il lancia razzi Ah non lo devi ricaricare Ok Finito il legno È caduto Non lobehack Non lo devi ricaricare Il gunfight deve finire ora. Che non finisce ora. Entriamo in safe. Io essere full sono full. Di vita però. Devo cercare di prendermi anche un minimo vantaggio solo sulla vita. Minimo mi serve. Ok. Let's fucking go babe. Ok. Però 14 kg sono poche quindi per farmi perdonare ragazzi. Lo faccio. Vi mostro la mia sensibilità e le mie impostazioni. Quindi andiamo in lobby. Un veloci terrestre ragazzi. Devo farvi vedere le impostazioni. Sensibilità controller wireless XY 8 e 8. ADS controller wireless e sensibilità mirino controller wireless 090 e 090. Queste sono le mie sensibilità. Tra poco passerò la sensibilità sull'asse XY a 9. Perché ho notato che è molto meglio. E quindi queste saranno le mie future impostazioni appena riuscirò ad abituarmi. Intanto sono 8 e 8. Quindi ragazzi questo è quanto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like. Inoltre iscrivetevi al canale altrimenti vi perderete i prossimi video. E poi se volete seguitemi su Instagram. Link in descrizione. Basta cercare su Instagram. FortuGamer mi trovate sicuramente. E noi ragazzi. Ci becchiamo alla prossima. Ciao.